Tutto ebbe inizio poco dopo la convivenza. All'inizio ero felice insieme a lui. Facevamo tante cose. Ricordo che ci divertivamo moltissimo. Io e Catherine eravamo molto affietati. Ero sempre a disposizione per lei. Con il passare del tempo le cose sono cambiate. Lui ha iniziato a trasformarsi. Catherine, ma è pronta la cena? Sapevo che in lui c'era qualcosa che non andava. Catherine, ho fame. Portami un panino. Sono arrivata ad un punto tale che non lo riconoscevo più. Fare cose semplici erano diventate per lui impossibili. Catherine, ho bisogno di aiuto. Devo andare in bagno. Non sapevo proprio cosa fare. E alla fine ho chiesto l'aiuto di un esperto. Assieme ad altri specialisti abbiamo condotto diverse ricerche e fatto tante analisi. Siamo arrivati ad una conclusione e siamo sicuri di avere una diagnosi. Tu mangi troppo. Grazie alla diagnosi del nostro specialista sono molto più sollevata. E grazie ai suoi preziosi consigli su come affrontare il problema riesco ad essere più serena per il futuro. Sicura che alla fine tutto si risolverà al meglio. Grazie ai suoi preziosi consigli sui 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 preziosi consigli sui